Ciao ragazzi, oggi abbiamo la nave dei pirati Adesso comincio ad aprirlo Vado ad aprire E' troppo grande la scatola Ecco che sta uscendo la nave Parlate Sta uscendo la nave La nave, la nave dei pirati Guardate Guardate, hanno preso i tesori questo Oh che bello Un'onda gigante Pirati 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 Guardate La scimmietta Si arrampica Arrampicata 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 Ho già messo anche il popogallo Queste cose vanno giù Si Come faccio a navigare? Io Guardate 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 tutti gli animali sotto gli animali giù le onde due onde due onde dove possiamo andare di lava aspettatemi perchè mi l'ha fatto da solo? è volato chi è stato? i pelati uno che si sta arrampicando tira col canone e un'altra volta tira mamma mia che è andato lontano è andato lontano spero spero che non abbiamo la barcha piccolina la signata è questa qua è rompicata non ci interessa niente non ci interessa non ci interessa niente ma è che l'oro sta andando via spero che è ritornato aiuto ehi capitano che c'è? la nave sta affrontando oh no lascia niente caduta i pirati hanno fame i pirati non mangiano ciao ragazzi questa è stata la mia barca dai pirati ci vediamo domani non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e lasciate un pollicione ciao ci vediamo domani